Lettura, Vangelo e Commento Dal libro del profeta Isaia Il sentiero del giusto è diritto, Il cammino del giusto tu rendi piano, Sì, sul sentiero dei tuoi giudizi, Signore, noi speriamo in te, Al tuo nome e al tuo ricordo Si volge tutto il nostro desiderio, Di notte anela a te l'anima mia, Al mattino, dentro di me, Il mio spirito ti cerca, Perché, quando eserciti i tuoi giudizi sulla terra, Imparano la giustizia gli abitanti del mondo, Signore, ci concederai la pace, Perché tutte le nostre imprese tu compi per noi, Signore, nella tribolazione ti hanno cercato, A te hanno gridato nella prova, Che è la tua correzione per loro, Come una donna incinta che sta per partorire, Si contorce e grida nei dolori, Così siamo stati noi di fronte a te, Signore, abbiamo concepito, Abbiamo sentito i dolori, Quasi dovessimo partorire, Era solo vento, Non abbiamo portato salvezza alla terra, E non sono nati abitanti del mondo, Ma di nuovo vivranno i tuoi morti, I miei cadaveri risorgeranno, Svegliatevi ed esultate, Voi che giacete nella polvere, Sì, la tua rugiada è rugiada luminosa, La terra darà alla luce le ombre. Dal Vangelo secondo Matteo In quel tempo Gesù disse, Venite a me, Voi tutti, Che siete stanchi e oppressi, E io vi darò ristoro, Prendete il mio gioco, Sopra di voi e imparate da me, Che sono mite e umile di cuore, E troverete ristoro, Per la vostra vita, Il mio gioco infatti è dolce, E il mio peso leggero. Parola del Signore, Lode a te, o Cristo. Commento al Vangelo Ciao a tutti, E ben ritrovati questo giovedì su Via della Fede, Per approfondire queste parole del Vangelo, Speriamo davvero che il Signore mi aiuti a spiegarlo bene, Perché è un Vangelo bello duro. Diciamo anche che oggi è La ricorrenza di San Federico, Facciamo gli auguri quindi a tutti coloro che si chiamano Federico o Federica, Chiedendo aiuto anche a questo santo, Per quanto riguarda proprio la sua lotta, Per quanto concerne il matrimonio, E nel particolare i matrimoni incestuosi. Quindi cerchiamo di comprendere cosa c'entra anche questo santo con questi passi del Vangelo. Cominciamo con il segno della croce, Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Vieni Santo Spirito, Manda a noi dal cielo un raggio della tua luce, Concedici, O Paraclito, la tua intelligenza, Perché mediante essa possiamo comprendere queste sante parole del Vangelo. Per avvicinarci al Padre nostro che è nel cielo. Padre, donaci anche oggi il tuo amore, Perché qui giù, in questa valle di lacrime, Davvero siamo tutti bisognosi del tuo amore. Dunque, in quel giorno, Gesù disse, Venite a me, voi tutti, che siete stanchi e oppressi. Se fossimo vissuti all'epoca di Gesù, Sarebbe stato anche facile cercare di interpretare queste parole. Gesù è lì, io mi incammino, Arrivo, sono stanco, sono oppresso, Lui mi darà ciò che serve, Perché questa stanchezza e questa oppressione possa passare. Ma oggi, come facciamo ad andare da Gesù E a essere sgravati, diciamo così, Dalle molteplici oppressioni e stanchezze Della vita di tutti i giorni Che il mondo ci propone e ci propina? Beh, devo dire che Dobbiamo parlare di due cose. La prima è un andare a Gesù nel cuore. Che cosa vuol dire questo? Vuol dire che io posso pregare. Nella preghiera mi avvicino al Cristo. Perché questo? Perché la preghiera, fratelli mie, sorelle mie, Come dicevo, non è quell'elemento che serve a noi Perché il problema possa essere risolto. No. Questo passo del Vangelo infatti ce lo spiega davvero benissimo. La preghiera è quell'elemento che ci serve Per avvicinarci a Gesù. Perché riconosciamo la nostra debolezza E chiediamo a Dio Padre che possa venire questo regno nella nostra vita. Dunque riconosciamo di essere piccoli, poveri E di avere bisogno in questa preghiera. Ma oggi nella Chiesa Cattolica Apostolica Romana Il fondamento della Chiesa stessa è l'Eucarestia Che è Gesù stesso, benedetto davvero Lui, il suo papà e lo Spirito Santo Nei secoli dei secoli Che scende ogni volta che Nella Santa Messa Il prete innalza l'ostia Innalza il calice Trasformandolo Uso questa parola un po' complicata Con la transustanziazione Quel piccolo pane nel corpo di Cristo E quel poco divino nel sangue di Cristo Noi lì incontriamo Gesù Che è davvero il cuore della Chiesa Ma è per noi la nostra forza Per noi è l'aspetto indispensabile Che non può mancare nella nostra vita Perché è come se tu non bevessi Ma vuoi fare una giornata di lavoro sotto il sole Ma come puoi fare questo? E' come se tu non mangiassi Ma volessi alzare un gran numero di pesi Come puoi? Davvero mancano le forze Ecco che a differenza delle religioni Il cristianesimo, come ho detto anche altre volte È un incontro Il Cristo, Dio che scende dal cielo E noi che facciamo un piccolo passo Per andare verso di Lui nell'Eucarestia In Chiesa, nella Santa Messa Dunque, ecco come noi possiamo incontrare Gesù In questi due modi principali Poi magari me ne potete scrivere anche molti altri nei commenti Ma Gesù ci dice e ci parla in modo umano Venite a me e io vi darò ristoro Un ristoro che è umano Per farci capire Vi farò stare meglio Vi farò stare meglio Ma adesso andiamo ad approfondire che cosa vuol dire Per Gesù dare ristoro Approfondiamo Continuiamo il Vangelo nel frattempo Perché dice Prendete il mio gioco sopra di voi Ed imparate da me Che sono unite e umile di cuore Il gioco di Gesù Il gioco di Gesù Ma voi ci avevate mai pensato Che Lui porta A questo gioco con noi Cioè La cosa incredibile Che il gioco È quell'elemento Che si mette sopra gli animali da traino Per arare la terra Per fare un'opera che dà frutto E generalmente Si mette su due buoi Per esempio Perché in quel modo L'opera viene molto meglio Che se è un solo animale A trainare l'aratro Dunque Gesù come dice Già porta il gioco Perché Lui dice Imparate da me Quindi È Lui che è l'esempio Ci fa vedere Come si porta questo gioco Quindi ci sta dicendo In questo momento Molte persone vedono questa cosa Come Magari Il contadino Che è sopra l'animale E lo lega Per Fargli fare Quello che dice Lui Gesù non si mette Al di fuori Dalla parte del contadino Ma si mette Dalla parte Dell'altro Somarello Che tira O l'altro Bue Che tira l'aratro Insieme Gesù Con noi Ci chiede Di fare questa cosa Dice Di imparare da Lui Che è mite E umile di cuore Dunque Che cosa significa Questo aspetto Di gioco Lo possiamo Vedere Sotto due aspetti Il primo È che Il gioco Che cos'è Non è solo Quello strumento Che serve Per tenere Insieme Gli animali Ma Non è solo Lo strumento Che serve Per fare bene Per fare bene Quell'opera Di arare il terreno Ma serve Per mandare Dritti Gli animali Per una Per una via Precisa Come la via Della fede Che ci può portare In paradiso Cioè In questo gioco Gesù ci dà Una direzione E Lui Non solo Non solo Ci vuole dare Una direzione Con questo gioco Ma è Lui Che vicino a noi Ci porta Ci aiuta A compiere Quest'opera Che varrà Per noi E Per coloro Che noi Amiamo E In quest'opera Si potranno Aprire le porte Del paradiso Perché Non è Nostra Abbiamo Compartecipato Con Gesù A farla Dunque Cosa succede Che Questo gioco Diventa Dolce E leggero Come Continuerà A dire Questo Vangelo Perché Dolce E leggero Perché Fondamentalmente Siamo Con Gesù E quando siamo Con Gesù Dovunque siamo Viviamo Un pezzo Di paradiso Dunque Quest'opera Che noi Stiamo facendo Questo lavoro Diventa Come Come posso dire Adesso Oggi Vanno Di moda I jetpack Che sono pesanti Ma se schiacci Un pulsante Ti fanno volare Pesa sulle spalle Però ti permette Di volare Così Se guardassimo Per esempio Gli angeli O gli uccellini Sono le ali Quando su a terra Queste ali Sono un po' Di inciampo Sono un po' Di intralcio Ma tramite quelle ali Loro Diventano leggeri E volano Ecco dunque Che il Signore Ci dà un gioco Che è Ala Che è Un mini jet Che ci trasporta Davvero Verso il paradiso Con Un cuore umile E sincero Con un cuore Dolce Lui dice E approfondisce Ora Quest'argomento Ma Prima di andare avanti Questo era il primo Elemento Volevo cercare Di guardare Il secondo Elemento Che ci riporta Un po' Al santo Al santo Di oggi A San Federico Lui combatté Strenuamente Contro i matrimoni Che potevano essere Incestuosi Ora Dio Ci dà L'indissolubilità Del matrimonio Dice Non separi L'uomo Ciò che Dio Unisce Dunque Un gioco Dunque Un gioco Ma In questo Gioco In questo Gioco Scopriamo Una via Da percorrere Insieme Una strada Che ci permette Di affrontare Insieme Tra marito E moglie Quelle situazioni Che da soli Non saremo mai Riusciti ad affrontare Grazie Grazie Proprio A questo Gioco Quando Uno dei due Cade a terra O il marito O la moglie L'altro Sopperisce In qualche modo E alla fine Entrambi però Arrivano A fine percorso A fine strada Ecco dunque Che questo gioco Diventa Salvezza Perché In questo In questa visione Noi dobbiamo vedere Il matrimonio Per esempio Non come Fra marito E moglie Ma fra marito Moglie E il Cristo E Dio Che Infonde Quella grazia Che permette Poi Di superare Quelle prove Ed è Proprio questo Il nodo centrale Che andiamo Ad affrontare Ad affrontare Ora Perché il Signore Dice Che troveremo Ristoro Per la nostra vita Cosa vuol dire Trovare Ristoro Per la nostra vita Dunque Quando noi Andiamo incontro A Gesù E andiamo incontro A Gesù Con un gioco Sulle nostre spalle Con una croce Che noi portiamo E Noi Cominciamo A guardare La nostra vita Con altri occhi Perché Nel momento Che decidiamo Di prendere Sulle nostre spalle Questo gioco Succede Un miracolo Uno dei miracoli Più grandi Che il Signore Abbia mai fatto Che continua Costantemente A perpetrare Nel mondo Che è quello Della conversione Cominciamo noi A convertirci In questo miracolo Della conversione Noi passiamo Noi passiamo Da persone Morte A persone Che vivono Perché tutti Coloro Che sono Distaccati Da Dio Scelgono La non vita Mentre Quando noi Riallacciamo Le nostre Relazioni I nostri rapporti Con Gesù Ritroviamo Una vita Che lui Ci restituisce Nel perdere Nel perdere La nostra vita Cioè nel dare Il nostro tempo Agli altri Nel portare Questo gioco Che Non è più Un gioco Di nostra volontà Ma che Abbiamo scelto Di portare Sulle nostre spalle Per amore Del Cristo Cristo vede Che noi Non facciamo Più Per noi Nel fare Questo Perdiamo Tempo Perdiamo Vita Dunque Lui Ci restituisce Questa vita In due modi Fondamentalmente Uno Riempendo I nostri Giorni Di vita Quante volte Il vivere La tua giornata È stato Vuoto Hai guardato Giorni Giorni E mesi Passare Senza avere Un significato All'interno Quando Dio Invece Per mezzo Di questo Grande miracolo Per mezzo Di questo Inizio Di resurrezione Riempie Questi giorni Con un significato Con un senso Questi giorni Pieni di vita Ti danno Un motivo Di gioia Un motivo Di benessere Un motivo Di star bene Quindi riempie Da un lato Questa nostra vita Dall'altro Ci dà una vita Che mai finirà Che è quella Eterna Quella che vivremo In paradiso Con tutti i nostri cari Abbracciando Gesù Con un gioco Con un gioco Dolce E leggero Dunque Davvero Che questo Peso leggero Di Gesù Possa Innalzare I nostri cuori Darci Un cuore Nuovo Portarci Con serenità Con gioia Con speranza In paradiso E guardate Fratelli mie Sorelle mie Che Questo vivere Il cristianesimo Vivere Cristo In questo modo È visto dagli altri Cioè Le persone Se ne accorgono E Quando ti guardano Negli occhi Quando Nella fatica E nello sforzo Tu Sorridi Tu Stai bene Perché Sai Che non sei solo Sai Che puoi affrontare Quella situazione Un altro modo In cui il Signore Ci restituisce La vita È quella Di Farci Affrontare Delle difficoltà Nel momento Della difficoltà Noi siamo Impauriti La paura Tende a fermarci A bloccarci Quindi Questo È un modo Con cui Il diavolo Ce la toglie La vita Mentre Gesù Ce la restituisce Perché Ci infonde Quel coraggio Ci infonde Quella forza Ci dà Quella grazia Per la quale Noi vedendo bene Quella situazione Siamo Riusciti A superarla L'abbiamo Fatto noi Lo avete Fatto voi Quante volte Nella vita Con Diciamo Un Sì Detto di cuore Al Signore E quando Noi affrontiamo Quella situazione Che prima Ci terrorizzava Avendola Vissuta E superata Non ci fa Più paura Nella nostra vita Quando la rincontriamo O incontriamo Qualcosa di simile Forti Dell'amore Di Cristo Siamo in grado Di affrontarla Col sorriso E se noi Incontriamo Qualcun altro Che sta Passando Questo Possiamo Prendere Addirittura Il loro Gioco E aiutarli A camminare E questo Ci dà Una gioia Perché Ci fa Vivere Una vita Piena Perché Possiamo dare Una parola Di conforto A coloro Che ci sono Vicini Una parola Di aiuto Ma un aiuto Vero Reale Tangibile Quante volte Guardi tuo figlio E ti fa una domanda E non sai rispondere Oppure Guardi tua madre E tuo padre Vorresti dare un consiglio Ma non sai cosa dire Dunque Gesù Il Cristo Ispiri In te Questa Questo Questo Modo di essere Questo modo di vivere Per poter avere Più vita Nei tuoi giorni Dunque Che la benedizione Di Dio Risplenda Di te Sui tuoi cari E che Possa Per me Per la mia famiglia Per voi Per te Per la tua famiglia Trasportarci Con queste ali In braccio Al padre nostro Che è nel cielo Grazie di essere stati Con me Questi minuti Che Il Signore Vi benedica Se potete Ricordatevi di me Nelle vostre preghiere E anche Vi chiedo Un pollice In alto Non siate tirchi Con i pollici Perché basta Un click Poi è gratis E L'altra cosa Importante Magari se riuscite A condividere il video Grazie E ciao Ci vediamo presto Qui Da questa parte C'è questo disegno Che è un pochino Più brutto Ma Rappresenta La resurrezione Ed è Una resurrezione Che comincia Nel nostro cuore Parte dal buio Parte dalla polvere Ma Arriva In braccio A Nostro Signore E nel suo cuore Ciao E a presto A Nostro Signore Grazie.